Buongiorno, stavamo dormendo, scusate. Oggi abbiamo fatto il campeggio. Sì, asino, asino, una coccinella, guarda in là. Scusate, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ah, buongiorno, asino, dai, buongiorno, come va? Buongiorno, buongiorno. E' subito. Ma chi è questo grande papaccio? Ehi, arrattare la tua video. Bene, buongiorno. Comunque sì, è il momento di salutare. Ma che momento di salutare? Ma questo grande papacicca chi è? Beh, è un grande papacicca però. e... Papa, 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 papa.. papà 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 ti papa 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 toca ti sto troppo pod ok che cosa mangiamo quindi è il momento di salutare ciao a domani ciao a domani ciao a domani ciao a domani ciao soprattutto la coccinella ricominciate con quelle cose ciao ciao